Giunto a Vibo Valencia sotto una pioggerellina molto English e protetto da un vero plotone di uomini della scorta, Piero Grasso, presidente del Senato, ha aperto la sesta edizione del Festival Leggere e Scrivere col suo ultimo libro Storie di sangue, amici e fantasmi, ricordi di mafia 25 anni dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. I ricordi, le esperienze, tutto quello che sono stati i miei 43 anni in magistratura non possono essere cancellati e ho pensato di scrivere appunto un libro dove raccogliere tutti i miei ricordi, soprattutto per i ragazzi nati dopo il 92. Sono passati 25 anni dalle stragi e credo che sia corretto dare la possibilità di conoscere quella realtà per evitare che si ripetano quegli errori. Che messaggio vuole dare ai ragazzi delle scuole presenti in sala? Il messaggio agli studenti è di impegnarsi, di essere protagonisti e non spettatori del loro futuro, fare in modo che di poter realizzare, anche attraverso l'aiuto delle istituzioni, perché è quello che dovremmo fare tutti noi, realizzare i loro desideri, le loro idee, i loro sogni e soprattutto essere capaci di noi, di fornire loro le opportunità per inserirsi in un mondo lavorativo che li deve accogliere e non spingere ad andare a lavorare al di fuori della propria terra. Ai microfoni dei cronisti il Presidente del Senato però ha anche risposto a domande inerenti alla politica nazionale e alla criminalità locale, conscio dell'importanza delle sue dichiarazioni anche e soprattutto su questi argomenti. Sappiamo che le mafie, l'andrangheta, la camorra si occupano di settori che prima magari erano trascurati rispetto agli stupefacenti ma che ora danno degli enormi profitti e la politica deve riconoscere questi fenomeni, deve agire insieme a magistratura, forze dell'ordine, per poterli combattere. Però il problema è anche non dare consenso al sistema mafioso che è quello che evita che si possano distruggere con un'azione di polizia. Non è mancata poi una battuta sul suo personale rapporto con Adriana Musella, salita alla ribalta della cronaca giudiziaria perché indagata per appropriazione in debita e malversazione. Penso che la magistratura potrà ben valutare tutto quello che viene contestato e con me rimane comunque un rapporto personale con la Musella che voi sapete che è da anni che dura e che mi ha visto sempre qui a andare contro l'andrangheta e contro la criminalità organizzata. Grazie. 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 Grazie.